Musica Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio sulla serie di FIFA 17 Allora ci eravamo lasciati qua in attesa di iniziare ottobre e in attesa di iniziare la seconda partita di Champions League del giro di Champions League, quella contro il CSKA laggiù in trasferta Allora iniziamo subito, guardiamo di rifarci un po' almeno nel Champions League dato che il campionato più o meno stava andando bene, non benissimo ma bene Champions League purtroppo aveva iniziato male con una sconfitta con lo Sporting Vediamo se in questa seconda partita riusciamo ad avere un risultato finale diverso Magari una bella vittoria Allora per quanto riguarda le mani le vanno male o sì Guardiamo un po' se si può fare qualche cambio Direi di sì, fatemi vedere Delefo se è in forma o meno Direi di togliere il Bailey per Delefo No, partiamo così, anche se non tutti i giocatori sono diciamo al 100% Anche se comunque solo sono a 90, niente di drastico, di brutto Giochiamo in notturna e sotto la neve Batto nel calcio di inizio gli avversari E come sempre la partita inizia Dai, eh bimbi Attenzione Attenzione, prendila, mamma mia Si è rischiato parecchio, via È la palla, vai Delefo Ammodino, Dio Ancora finita, Ammodino, tira Willem, eccolo lì Paolo Di bala, la sblocca lui Una serie Al ventesimo Bene, bene, bene Attenzione, eh Comunque Già una volta prima di noi il CSKA è stato pericoloso È rischiato di far gol, quindi occhio No, Rigori Eh, clamorosamente Rigori Purtroppo è vero È sbagliato Ma, guardiamo se Gigi riesce a pararlo No 1-1 CSKA Cioè, vabbè, 1-1 CSKA Fatto gol CSKA Torniamo sul risultato del pareggio Infatti, dopo 7 minuti Dopo averlo fatto L'avevo detto, stiamo attenti, infatti Ho sbagliato Vai, Embolone Eccolo lì Embolo 2-1 Arricchiamo anche di sbagliarla Comunque Vabbè, in serio, l'importante è che alla fine l'abbiamo scelta dire 2-1 Mamma mia In 18 minuti, più o meno Sono state ben tre gol Partita divertente, eh Dal punto di vista dello spettacolo Mamma mia No, non ci riedo 2-2 Non si fa in tempo a far gol Che questi ce lo rifanno Ma che partita è? Finisce così il primo tempo 2-2 Come ho detto prima È una partita tra virgolette Era il punto di vista dello spettacolo Perché ci sono golle Diciamo divertenti Però Per quanto ci riguarda Siamo stati per ben due volte De Brody Perché Non ci ha fatto intanto a baffa a gocca E ce l'hanno rifatto Guardiamo se nel secondo tempo Riusciamo a ritornare il vantaggio E di restarci, eh Vediamo Vai, delle foo Eccolo lì De foo Però Ci sono consenze Tutto un minimo Però rimango Molto molto calmo Perché come avete visto prima Se si esulta Se fa in tempo esulta Che ci fanno go Quindi 3-2 Va bene, eh Però Esulta alla fine eventualmente Vai Cambio Guardiamo un po' Eh, infatti Qualcuno è parecchio stanco Allora Levo Bowser Permette Tirevance Levo Tibala Permette Rushford Perché comunque Un attaccante Voglio sempre farlo riposare Perché è il reparto C'è il nome In cui abbiamo Eventualmente Se dovessi fermare qualcuno Un po' di emergenza Tra virgolette Perché non abbiamo Grandissimi giocatori In panchina Anzi Perché grandissimi Tantissimi giocatori In panchina E Bale E poi Sto in bene E poi faccio così Vai Attenzione Attenzione No No 3-3 Maledetta La miseria Questi male Non importa Oh Guarda A volerli male Una volta su due Fanno go Perché di solito Lo fanno sempre Porca miseria Vai Rashford No Perché non hai tirato subito E l'ho premuto Pigiato il tasto Vai Ericksen No Non ci credo È scivolata L'ha levato il tiro Che culo Finisce Sì 3-3 Un che l'abbiamo Voluta pareggiare Perché Per chi segue la serie Sa che Io che faccio 3-go Cioè veramente No Sound dio rara Ma quasi Però Altrettanto Anzi Direttore è molto più rara Il fatto che ne prenda poi 3 Cioè Abbiamo voluto pareggiare Via Perché le possibilità Di portarci a casa 3 punti C'erano Bravi loro Comunque A far go Tutte le volte Quasi Che arrivavano sotto porta Nostra Brodi Brodi 9 anni fa Via Vabbè Comunque L'importante Alla fine Ne aveva perso Che sarebbe Cioè Diciamo che nonostante tutto Poteva andare anche peggio Comunque Adesso Pensiamo al campionato E Al campionato E avviamoci La prossima partita Che come vedo Sarà contro l'O E anche contro l'O Contro il Norwich Iniziamo subito Questa partita Giochiamo in casa Contro il Norwich Appunto Allora Per quanto riguarda le maglie Vanno bene così Ehm Sì Vai Iniziamo così Battiamo il carcin Inizio noi stavolta Invece La partita inizia Dai eh Vai E' lì subito di testa No Peccato di Adio Aio 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 Mamma mia Ho preso un altro gol Un'altra partita Vabbè Ho fatto Con due partite Per l'ho preso Maledetta la miseria 1-0 Norwich Non ci credo 2-0 Io ci voglio redi Bimbi Questi due volte arrivano in anti-porta E fanno go Boom Mamma E' così via Questo video sarà Per quanto guardi all'avversario Ne guardate arrivano in porta Vesti fanno go Bah Vabbè Vai di bala Sì Il lungo è fatto Sì 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 Andiamo Vale Dai Veloce Prendi palla Anche se Deve Sì Come si faccia Finisce 2-1 Il primo tempo 2-1 Chiaramente Per il Norwich Bah Una partita strana Perché Vantaggio Meritato Per loro Se proprio Li voglio Bisogna volerli bene Bisogna dire che Bisogna bastare sul pareggio Perché in realtà Ha fatto più Cioè Abbiamo avuto più occasioni Abbiamo avuto più occasioni Noi di loro Però insomma Alla fine Dipendente Venta da questa CV Il Norwich Però sta vincendo La partita strana Perché Sembrerebbe che Forse Se continuiamo Piano piano A spingere Forse Riusciamo a fare Addirittura Un altro gol In questo caso Il gol del pareggio Vediamo Iniziamo il secondo tempo Vediamo un po' Come andranno le cose Vai Embolo Tira No Dai Che culo Però A parte che Dova scoppiare Pallone Embolo Madè Che culo Vai Di bala Dai 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 Finisce O sì 2-1 Norwich Non siamo stati in grado Di fare Quel gollettino Che ci poteva permettere Di pareggia Ma A parte che Norwich ragazzi È una besta nera Tra virgolette Per noi Perché ce lo portiamo Da Quando eravamo in Serie B Ovvero due stagioni fa Nei gio Che per niente arrivarono primi loro Si fece tutto per arrivarci Ci svegliò tardi Però si provò Tutto per arrivare Prima di un punto Se non sbaglio Ci arrivarono loro primi Comunque Abbiamo Pareggiato Abbiamo perso Scusate Era meglio Siamo pareggiato E niente Diciamo che il video Inizia male Perché inizia con Diciamo Un pareggio E una sconfitta Era meglio Se magari si poteva pareggiare Se vinceva Vabbè Vediamo come andrà dopo Big match Per quanto riguarda Il campionato Giochiamo Contro United La giù a Manchester Giochiamo Trasferta quindi E guardiamo un po' Come andrà È sicuramente Una partita Sulla carta Molto difficile Però Non è impossibile Vediamo un po' Se riusciremo A ottenere Un buon risultato Comunque È venuto in mente Solamente adesso Guardando la formazione Che prima Io non ho fatto cambi Perché ero preso Da cercare In tutti i modi Il gol del pareggio Quindi direi Di fare un po' Giustamente A virgolette Un po' di turn over Anche se in realtà Non dovrebbero essere Queste le partite In cui uno Lo dovrebbe fare Allora No basta Ma non si Vai Iniziamo Giochiamo di giorno Battono il carcio D'inizio No battiamo noi Il carcio D'inizio Scusate Mamma mia Oggi Se ciò Non lo so Non vengono Anche per là Parlo malissimo Comunque La partita inizia Dai bimbi Vediamo un po' Cosa riusciremo Cosa riusciremo a fare Attenzione Mamma mia Attento Più o meno Donna Rum Finisce Si il primo tempo 0-0 Veramente Veramente Poca occasione In entrambe le parti A parte Di avere il tiro Di chi ha Di Mkhitaryan Del Manchester E poi non era successo Mi pare nient'altro Di Declatante Comunque mi sono dimenticato Di dirvi Che questa è la partita Degli X Comunque Perché Se non erro Allora Di Bala Nel gioco L'anno scorso La precedente stagione Giocava Nello United Nello United L'abbiamo preso Da lì Allo stesso tempo Visto che c'è Il nostro amico Gabigol Che è fronte Titolari E poi Sempre A regola Abbiamo preso Anche da United Il Rashford Perché il Rashford Vabbè Come nella realtà Mi pare che Anche nel gioco Fino all'anno scorso Gioassi sempre Nello United Quindi Partita degli X Mi pare di non Non essermi scordato Nessuno Mi pare No Mamma mia Mamma mia Ci è andata bene Cosa si è mangiato Gabigol Cambio Sì Facciamo anche il cambio Perché se no Qui Ma niente Cioè Non si riesce A arrivare in porta Allora Vediamo un po' Ma Proviamo a far così Non so cosa possa Ambia Proviamo No Mamma mia Meno male Donnarumma L'ha presa Vai Eh ma Si doveva Cioè A parte che non è ancora finita Però almeno per ora Lo United Si meritava almeno un go Eccolo No Non male Vai Finisce 0-0 E ma C'è andata stra bene Io non capisco E mai oggi Veramente Cioè oggi In questa partita qua Non capisco Perché non Non è riuscito Nemmeno una volta A arrivare in porta Baby Zero tiri Zero tiri Bah Strano Proprio sembrava Già Torri Facce stessi pari Oh non so parlare Non so parlare In questo video Per niente Quarta partita del video Ma terza partita Del giro dei Champions Si gioia in casa Contro il Napoli Bisogna assolutamente vincere Perché guardate la classifica Siamo ultimi In quanto riguarda la Champions È vero che La prima vista Tra virgolette Ha solo tre punti Però Momentaneamente Siamo ultimi a un punto Guardiamo se riusciamo Almeno stavolta Per quanto riguarda La Champions League A vincere No ma proprio in generale Non tanto ora ci penso Quanto riguarda la Champions League Guardiamo se riusciamo a vincere Perché il campionato Non è che Si sta facendo Magie e follie Allora Vediamo un po' Faccio un po' di turn over Tra virgolette Metto zoom Al posto della porta Poi no L'attacco rimane così E metto Delefo E poi si dembele Vai Iniziamo Batto nel carcere Inizio l'avversario La partita inizia Dai Vai Embolo di testa Maledetta la miseria Ma come l'ha presa male Non ci credo Meno male fuori Non ci credo Perché ho detto Va a far go Ne ha scantato i 47 Se ne vedo A finire il porter Pallone Invece Meno male fuori Vai Vai Bellerin Non ci credo No Va bene Rimaniamo Sullo 0-0 Finisce Sì il primo tempo 0-0 Poco occasioni Però Nel finale La cosina c'è stato Basur Dio Buono Vai Embolone Maledetta La miseria No Meno male Ho pensato Fosse Gode Io non so Di quanto si è uscito Il pallone Boyer In questa prospettiva Vi pareva Go Vai Embolo Maledetta La miseria Tiro brutto Devo andare a finire Questo Rimesso in laterale Vabbè Guardiamo l'angolo Oh Bello Emozionante Vai Oh Tele Finalmente La blocchiamo Più o meno Al settantesimo Aleddy Boh Ha lasciato anche culo Perché qui ho rischiato Che mi levasse palla Meno male L'ha scartato Un po' di fortuna Però L'ha scartato Aleddy 1-0 Finalmente Siamo in vantaggio Incredibile E faccio anche Un cambiettino Anzi Dei cambi Allora Direi di levare Eriksen Per Tilemans Poi Dembélé Per proprio Delefaux E Dybala Per Rashford Sì ok Vabbè avete capito Ho sbagliato Di Prima Levo Dembélé Per Delefaux In realtà Levavo Delefaux Per mettere Debele Dai che manca poco Eh Non facciamo scherzi Da Regola è finita Arbitro Fischia Ma no Invece no No Vabbè Non so se era fallo Se non era fallo Vabbè andavamo Potevi farmi finire l'azione Caro arbitro La differenza A reti conta Magari la buttavo fuori Comunque Ale Siamo tornati alla vittoria Finalmente In Champions Che Momentaneamente Diciamo È più importante Il campionale Il campionale più lungo È Champions Dopo queste Sono solamente Tre partite Quindi Comunque Guardate i tiri Trimport Meritata vittoria Sì Decisamente Via Andiamo a fare Quella che se non sbaglio Dovrebbe essere L'ultima partita Del video Giocata Perché non so se c'è la coppa Non mi ricordo Ultima partita Giocata E comunque Del video Perché poi Visto come Mi era venuto il dubbio Che Mi pare il 30 ottobre C'è anche la partita Di coppa Che Vabbè Chiaramente Faccio la simulazione E Niente Quindi Iniziamo quest'ultima partita Giocata Via Non è la ultima partita Del mese Però l'ultima partita Del video Via No 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 Facciamo così Vai Guardiamo se si può fare Qualche cambio Allora Direi di giocare così Diamo un po' di spazio Però a Tileman Schipveraccio Da quando è arrivato Anche Baser E quando sono arrivati Baser e Eriksen Un gioco a più Mette a posto di Eriksen E poi facciamo gioco A Rashford A posto di Embolo Vai Iniziamo Quanto pare Giochiamo in notturna Mi sembra Che ha scritto 5 e mezzo Però forse è buio Buio pesto In Inghilterra A quest'ora Comunque Oddio anche in Italia E' Infettivamente 5 e mezzo È parecchio buio Vabbè Lasciano stare queste osse Abbiamo battuto il calcio Inizio noi E l'ultima partita Giocata Di ottobre Inizia Bella Che palla Per Di Bala Tira lì Rashford Ma muoviti A tirà Tira Rushford Di lì Vabbè Ha voluto tirarlo So che non era semplice Infatti si è visto Non preoccupate 0 a 0 Finisce sì Però volendo Scendo me Nel solo tempo E meno un gol Può venire fuori Chissà da Che squadra Però No a regola Volendo forse un gol Si può fare Forse E meno un gol Vai palla Tira 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 Vabbè A parte Ci andava di testa Ma ormai L'ho presa Via Cambio Non so quando entreranno Perché comunque Il pallone è ancora uscito Però lo voglio fa uguale Allora Levo buzzer Permette Ericsson Vabbè L'ho cambiato di posizione Poi 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 Levo Bailey Permette Embole E poi faccio sì E poi Levo De Embole Per mettere delle fuori Vai Bella palla Vai di bala No La schiacciata di destra Attenzione Mamma mia Stavamo per far gol alla fine Mi cazzavo pochino Finisce così 0 a 0 Vabbè Non si è perso Però Non ci siamo Non ci siamo Perché noi riusciamo Ad arrivare Tantissime Porte In porta E poi Pelle volte Che ci arriviamo Non concludiamo Facciamo un pareggio Il risultato Per voler bene A West Ham Più giusto Se riusciamo a fare un gol Non avevamo rubato niente Però è andata così Via Ora arrivo Alla partita di coppa Finiamo quella C'è la simula E poi arrivo alla conclusione Eccoci qua Guardiamo un po' Ma va A regola Si gioia in casa Tra Derby County Che dovrebbe essere Cos'è In serie B inglese In teoria Dovremmo Dovremmo Passare agilmente Però Boh Tanto però 0 a 0 Eh Sono passati 30 minuti Ah 1 a 0 Vado Vado 1 a 0 Boh Pensavo Magari Potremmo vincere In maniera molto più larga Invece no Comunque Arrivo al 4 Così perlomeno Arrivo proprio alla giornata D'inizio Del prossimo video Quello contro Crystal Palace A regola Si gioia fuori Asano In casa Ah beh Insomma Arrivo alle conclusioni Allora Per quanto riguarda Questo video È stato un video Bastante disastroso Perché A parte una vittoria Per il resto È stato un mix Di pareggi e sconfitte E In classifica Beh non male Sembrerebbe che sì Chiaramente qualcosa Risentiamo Però niente di eclatante Oddio insomma Perché anche il City C'ha 9 parti giocate Quindi Sono 6 punti di differenza Però beh Comunque Nonostante tutto Siamo sempre all'inizio Siamo a un quarto Diciamo del campionato Quindi È ancora sempre lungo E In Champions Bene o male Ci siamo rifatti Con la partita Con Napoli Ora non so Come siamo messi A regola Non dovremmo essere più ultimi Almeno Napoli Dovremmo averlo superato A regola E Quindi diciamo Che è stato un video Mediocre Parecchio Speriamo che Già dal prossimo Potremmo un po' riprenderci Perché ce n'è veramente bisogno E Boh Vedremo un po' come andrà Ripeto È sempre lungo tutto Sia il campionato La Champions Siamo a metà Però vabbè È sempre abbastanza lunga Cioè Le possibilità di Di far bene ci sono Insomma E Niente Se va avanti Meno male la coppa Va bene No A parte Vesto Credo Non ciò Da dire Arte Bisogna solamente Un po' svegliarci E giocare un po' meglio Ecco Quindi niente Ora arrivo alle vere Proprie conclusioni Quindi in primis Come sempre Vi ringrazio per la Utilizzazione E poi vi ricordo Di rimettere Barra a fare Se volete queste tre cose Ovvero Mettete un bel Mi piace al video Condividetelo Ma soprattutto Iscrivetevi al canale Così potrete rimanere Aggiornati Su tutti i video Di questa serie qua Ma non solo Detto questo vi aspetto Nel prossimo video In cui inizieremo Appunto Il mese di novembre Ciao